Da troppo tempo gli sterminati poteri conferiti ad Equitalia stanno letteralmente provando e talvolta privando della vita cittadini e attentano all'esistenza delle imprese, sfibrate da una crisi economica devastante. Troppo gli eventi tragici accaduti in questi anni, ma pare che la politica poco si occupi di come si svolgono le procedure all'interno dei loro uffici. Il movimento politico di Realtà Italia ha iniziato a raccogliere le firme contro lo strapotere di Equitalia per modificare norme vessatorie e di dubbia compatibilità costituzionale che le consentono, tra l'altro, poteri di cui nessun altro creditore dispone. Continuiamo a raccogliere le firme contro Equitalia e il suo strapotere. L'Agenzia delle Escolsioni e dei Tributi travalica molte volte le stesse norme, mortificando la dignità delle persone. Noi questo lo avevamo già cominciato nei mesi scorsi ad attenzionare come tema e abbiamo avuto un presidio il settembre scorso sotto la sede regionale di Equitalia. Noi non protestiamo solamente, ma raccogliamo le firme per modificare leggi che danno a questa Agenzia delle Escolsioni e dei Tributi, che dovrebbe essere stato, poteri straordinari e per certi aspetti inquietanti. Il movimento politico, guidato da Giacomo Olivieri, ha chiesto ed ottenuto nei mesi scorsi dal presidente della quinta commissione consigliare della regione Puglia, Orazio Schiavone, l'audizione del direttore regionale di Equitalia, Leonardo Arrigoni, sollecitato dalle numerose proteste di imprenditori, commercianti e cittadini pugliesi. Tali norme, spiega Realtà Italia, nulla attengono con l'evasione fiscale. Tuttavia non si può più tollerare un Equitalia forte con i deboli e debole con i forti, dove chi onestamente dichiara un tributo e non può onorarlo, viene letteralmente falcidiato da sanzioni, interessi ed agi per la riscossione, che fanno in breve raddoppiare l'importo dovuto. In questi casi bisognerebbe condonare o quantomeno ridurre fortemente le gravissime sanzioni. Per Realtà Italia è una battaglia di giustizia e di rispetto della persona lontana dalle appartenenze politiche. Per Realtà Italia